Sono Filippo Ederli, sono il titolare di Omonimi Studi Dentistici Polispecialistici. Per leontologia, implantologia e chirurgia sono i cavalli di battaglia dello studio assieme alla protesi che ha un particolare riguardo nei confronti dell'estetica dentofacciale. Oggi noi siamo arrivati a dire che l'estetica è funzione e la funzione è estetica nella maggior parte dei casi. Siamo più persone, ovvero sia che gli studi sono polispecialistici, grazie alla collaborazione con altri colleghi che si occupano specificatamente di patologia orale, di ortognatodonsia, cioè di apparecchi per i bambini o per gli adulti, siamo in grado di fornire dei piani di trattamento complesso, integrato, dato appunto dalla unione delle forze fra specialisti di settori diversi delle discipline dell'odontoiatria. Siamo molto disponibili per quello che riguarda le urgenze, abbiamo sempre per questo un numero di emergenza, troviamo sempre il modo di accogliere i nostri pazienti nel migliore dei modi in tempi velocissimi. Sicuramente avrai un trattamento trasparente, nel senso che tu saprai esattamente il costo delle terapie che andrai a sostenere. Siamo delle tecnologie assolutamente all'avanguardia, anche delle tecniche all'avanguardia che sono le più avanzate sul mercato. In Italia purtroppo la terapia di dolore viene spesso dimenticata o lasciata a sé, pertanto noi abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione proprio su questo, tanto è vero che abbiamo avuto dei riscontri molto positivi su moltissimi pazienti che prima erano fobici, c'era una enorme paura di venire dal dentista e che oggi vengono e si sono tranquillizzate talmente tanto che sopportano quel minimo di fastidio, neanche dolore post terapeutico. Grazie.